Nei giorni scorsi c'è stata la pre-inaugurazione, in poche ore fa anche l'inaugurazione della Biennale di Venezia, quanto la cultura può anche aiutare in questo momento storico? La cultura cura, la ripresa post-pandemica non può prescindere dalla cultura che pochi sanno o considerano va a coprire 15 miliardi del PIL italiano, per cui è fondamentale e la Biennale è sicuramente un'eccellenza italiana che è stata iniziata con una grande intuizione nel secolo scorso e che bisogna assolutamente sostenere. Poi nel merito delle polemiche sul PIL italiano ci siamo espressi, consideriamo una forma di narcisismo assolutamente autoreferenziale quella di Viola e Tosatti di fare un solo artista per un padiglione intero, quando dovrebbe essere un po' la scena nazionale degli artisti e dell'arte italiana. Grazie.